Ciao, io sono Walter Feckel, detto Tony della Yamaha. Abbiamo realizzato questo evento, combinare i due mondi Yamaha, musica e moto, è una cosa bella che entra giustamente nella filosofia dell'azienda Two Yamahas, One Passion. Tutti condividiamo la stessa passione, Make Waves, che è proprio lo slogan attuale della Cooperation. Facciamo Waves con gli strumenti musicali, facciamo Waves con i diffusori, i amplificatori, i processori che abbiamo presentato oggi e facciamo Waves con le moto che testiamo questo stesso giorno. Sono venuto molto più persone a quanto ho aspettato, quindi grande successo, gente nuova, amici di sempre. Oggi abbiamo presentato i prodotti chiave della linea CIS, il Commercial Installations, come le casse della serie VXS, le nuove colonne Line Array, diffusori Line Array VXL, processori MTX, amplificatori dell'XMV e poi tutte le novità che coincidentemente questa settimana sono stati presentati all'Infocom Las Vegas, come per esempio i nuovi amplificatori delle serie PC e anche le nuove casse che stanno per uscire al settembre VXC2F e il Subwoofer VXC8S. Oltre ai prodotti per installazioni abbiamo anche presentato i nuovi prodotti per Unified Communications, come il sistema videoconferenza all-in-one CS700 e anche il sistema audioconferenza YVC1000. Particolarmente sono piaciuti questi prodotti audio e videoconferenza, essendo nuovo per la Yamaha Music e anche il nuovo sistema di microfoni wireless della Rivo Labs che distribuiamo. Io purtroppo non avevo tempo per un test ride, magari la prossima edizione vorrei tanto portarmi un giro la Niken, quella a tre ruote perché questa costruzione mi interessa tantissimo, quindi sono molto curioso come andrà. Grazie a tutti!